La chiamano la Caffaro della Valcamonica e ha ragione. Nella ex-Selca di Berzodemo 37.000 metri cubi di rifiuti pericolosi e chimici sono lasciati al loro destino dopo la chiusura della ditta che fino a 11 anni fa si occupava di trattamento delle scorie e delle celle elettrolitiche usate per la produzione di alluminio. Come da prassi dopo il fallimento tutto è stato lasciato dove era con enorme rischio per la popolazione e l'ambiente. Oltre 2.000 firme sono state raccolte dall'Associazione Amici della Natura di Saviore dell'Adamello per chiedere interventi immediati di messa in sicurezza. Circa 20 anni fa con il deposito di oltre 37.000 tonnellate di rifiuti industriali molto vicini all'alveo del fiume Olio in località Forno da Lione nel comune di Berzodemo. Sono arrivati dall'Australia come rifiuti industriali da processare e ne sono stati processati pochissimi quintali e poi è stato abbandonato il tutto con il fallimento della ditta. La nostra grande preoccupazione deriva da due fatti fondamentali. Il primo è che sta percolando nel fiume attraverso alcuni pennacchi inquinanti, vengono chiamati così quando c'è un percolamento fisico in alveo, sia fluoruri sia cianuri sia idrocarburi da una precedente discarica della Union Carbide a monte dell'attuale capannone di Ex-Selca. E l'altra grandissima preoccupazione che abbiamo è che la crisi climatica in atto potrebbe portare a un disastro epocale per l'intera Valle Camonica e soprattutto per il Lago di Seo. Abbiamo raccolto finora 2.565 firme di cittadini che chiedono un intervento rapido e ben fatto.